Devo innanzitutto ringraziare il signor Questore, il signor Prefetto e tutte le forze in campo, Carabinieri 118, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, con un ottimo risultato e anche la Polizia Locale di Pesola, Comandante Muzzini. Abbiamo stabilito tutto quello che riguarda la viabilità, tutto quello che riguarda tutta l'attività anche antincendio, visto che siamo all'interno di un bosco e prevederemo migliaia di persone che giungeranno al santuario del Beato Sante e ci hanno fatti complimenti, abbiamo fatto un buon piano di sicurezza. Da questa sera partiamo con la benedizione dei mezzi agricoli, poi sabato e domenica dall'alba al tramonto con il concerto alle 5.30 del mattino per finire con un altro concerto alla sera e la domenica oltre a tutto all'artigianato, le bellezze che si potranno ammirare, anche storico-architettoniche di questo complesso santuariale che risale al 1223, quindi festeggiamo 800 anni e tra l'altro quest'anno festeggiamo anche un evento in più che poi vi svelerò domenica durante la Santa Messa che si celebrerà alle 11 alla presenza dell'Arcivescovo. Ci saranno molte forze dell'ordine in campo, ci saranno anche la possibilità di ammirare le forze dell'ordine che saranno in servizio presso il nostro santuario, quindi vi auguriamo a tutti una felice, serena giornata e soprattutto vi aspettiamo al Santuario del Beato Sante, seguiteci sulla pagina Facebook Santuario Beato Sante.